numero 5 questa confezione è sufficiente per circa 15 giorni contiene 96 pannolini la taglia 1 è adatta a bambini che pesano dai 2 ai 5 kg se la vestibilità è troppo stretta prova con una taglia più grande i pannolini hanno un assorbimento extra rapido doppie barriere elastiche per una maggiore sicurezza contro le perdite lo strato interno è morbido e sottile per un maggiore comfort ottimo prodotto per qualità prezzo numero 4 questa confezione contiene 80 pannolini la taglia small equivale alle taglie 1 e 2 dei pannolini presenti sul mercato il filtrante è molto soffice ed è formato da cuscinetti morbidi a contatto con la pelle e molto assorbenti il rivestimento esterno è traspirante i pannolini sono dermatologicamente testati e certificati o ecotex per l'assenza di sostanze nocive hanno infine barriere laterali per evitare perdite di liquidi trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 i pannolini pampers protezione premium sono appositamente progettati per dare il vostro bambino una imbattibile protezione della pelle avvolgi il tuo bambino in questi morbidi pampers i pannolini hanno tre strati di assorbimento per una protezione ottimale hanno un indicatore di umidità che segnala quando il vostro bambino necessita di essere cambiato numero 2 questi pannolini sono i primi in europa certificati oe ko per assenza di sostanze nocive a bimbi da 0 a 36 mesi i primi a vincere il premio product safety award assegnato dalla commissione europea per la sicurezza dei materiali con estratto di camomilla e capsule di extra morbidezza offrono una maggiore delicatezza sulla pelle sono super assorbenti grazie alla tecnologia dry matrix che cattura l'umidità e la trattiene lontano dalla pelle la confezione contiene sei pacchi da 28 pannolini ciascuno numero 1 pampers progressi è un pannolino esclusivo pensato appositamente per i primi mesi di vita dei bimbi questi pannolini sono dotati di uno speciale filtro a fori larghi che assorbe i liquidi dei neonati prevenendo le irritazioni della pelle il pannolino ha un utilissimo indicatore di bagnato che cambiando colore da giallo a blu segnala quando il tuo bambino ha bisogno di essere cambiato hanno una chiusura extra forte da un rivestimento super morbido che ne garantiscono una confortevole vestibilità trovi il link di questo articolo in descrizione